Esercizi sulla quale lavorare e prendere dimestichezza con l'arma Vi raccomando, fare tanta ginnastica Bene, primo, rotazione verso il basso, vicino al corpo Lavorare l'80% con il polso e il 20% con il corpo Uno, due, verso l'alto Tre, incrocio Sempre vicino al corpo, non lontano dal corpo, vicino al corpo Polso, in questo caso braccio Saliamo Carichiamo E frustiamo Saliamo Frustiamo La frusta, la mano si chiude Il bastone colpisce avanti Uno E due Ok Numero cinque Rotazione di polso, colpiamo con la parte finale Seguimi Ok Bene Parte finale La mano in alto, la punta in giù Taglio la gamba Carico in avanti Su In avanti E sotto Come se lavorassero due mani Ok Ok Grazie a tutti Grazie a tutti